Grazie Dio se mi spalli le orecchie ti ammazzo ancora Marco Ma vi pare che ero l'impostante crash Io crash Non ti sono 120 secondi eh Mannaria Puttana Sblender Tipo Adesso un po' spruzioni Inquadra il mio personaggio No sono crashato aspetta Io crash Inquadra il mio tempo Ok rieccomi Rieccomi Io ora crash Perché crash Perché ce l'ho scritto sul nome Un nome per me Non ci chiamo in tondo Manca a rire dal chat ma pota Titolo del video Io crash o crash ogni 3x2 Capitana E' da un zello C'è qualcosa che non va in me Non so perché Oddio non vedo più qual è il mio personaggio Aspetta aspetta Perdiamo un run per ogni cerchio Perfetto Ma te ma te Mettiti dove sto io No si sa un rapporto Raga mio figlio E' bugato Ah si Mi è uccogliotto Devi mettere in sottofondo Una canzone Per quel giallo lì Perché non ti sei zitto Che è meglio Che problemi ha Ma che problemi ha il bambino giallo Raga posso raccontare una battuta Dita Ma si possono Quindi c'è Nessuno si offende Oppure cazzate del genere Bye bye Allora Stavo con questi tre amici Stavamo bevendo alcolici così E una certa Ci viene in mente La brillante idea Di chiamare una Di quelle là Che fanno cose Quelle cose lì Esatto E andiamo in un posto Un po' più riservato Entra il primo ragazzo Dopo 30 minuti E esce Dopo aver fatto quelle cose Esce L'ho spattuta L'ho distrutta E io lì tutto confuso La madonna Che c***o sei Un kamatsutra Arriva Entra l'altro Pregio 45 minuti Esce con tutti i vestiti Strapati L'ho distrutta L'ho posto E tocca a me Entro dentro Dopo un'oretta e mezza circa Esco Loro mi dicono Madonna che c***o hai fatto E nulla Gli ho rotto il braccio Che giocava a calcio No no black humor Black humor Queste cose youtube Non le accetta Via 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 Mi dissolve Sapete qua il colmo Per un ebreo Che gioca a calcio Sì Gli ebrei non giocano a calcio Sì Cosa Ma sono Bella Aspetta Aspetta C'è no io una bella C'è no io una bella Questa qui invece L'ho rubata da qualcun altro Mi si è rotta l'orologio Qualche giorno fa No E nel parlare Con l'orologio Di come si fanno gli orologi E così via Siamo arrivati In una discussione In cui C'era questa domanda Qual è il gusto di caramelle Che ti piace di più E lui mi dice Tic tac Tic tac È vecchia È bella dai Lo so però Però ne vale la pena Umaro che ha perduto Un cagli E' una bistecca Allora G G di gatto O di orfano Q di 4 H di hotel G di jeans F di O Ho sentito di meglio P B I B B Barone Ebreo Aspetta plebeo CI PE MIE PE 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 pre PE Immortalci Q di quadro Q di quaderno Q di cuore często faccio venire un tumore a tutti Mi perla Altro sono Io penso che le popolazioni Del Sudafrica hanno più ping Ciao ragazzi Meno ping Bene ragazzi se vi è piaciuto questo video Se non mi piace commentate seguite i commentari Condividete il canale Twitter, Instagram Grazie a tutti